E' stata una strage. 800 maiali sono morti a causa di un incendio scoppiato in un allevamento intensivo nella Bergamasca. Ha presa la notizia agli investigatori di essere animali, l'associazione che da anni difende gli animali meno tutelati e più sfruttati, si sono recati sul posto, testimoniando con un drone quanto stava accadendo, in particolare mentre gli operai stavano togliendo di animali dall'allevamento. Abbiamo filmato gli istanti in cui i maiali feriti venivano abbattuti e sono riusciti a filmare il momento che ancora gli ultimi spasmi di questi animali. L'incendio in quel caso lì è avvenuto dopo che c'è stato presumibilmente un cortocircuito nell'impianto fotovoltaico che è disposto sul tetto, infatti molti allevamenti presentano i pannelli solari per tutta la lunghezza del tetto e dopo questo cortocircuito ha fatto sì che è scoppiato l'incendio che poi è divampato in tutta la struttura. Sono stati coinvolti più o meno 800 maiali da questo incendio, molti sono morti bruciati e altri sono stati abbattuti di emergenza il giorno dopo e questo è quello che siamo riusciti a filmare con l'ausilio di un drone. I numeri in questo ambito sono impressionanti. All'inizio dell'anno sono stati almeno 9 gli incendi che abbiamo appreso dai media e ovviamente ce ne sono stati altri che non hanno avuto risalto mediatico. Gli elementi intensivi sono nati per una questione di ottimizzazione, quindi meno costi, meno spazio, più animali all'interno però hanno delle conseguenze terribili soprattutto quando scoppia un incendio sulla vita e la salute degli animali.